SIGLA Ciao carissimi, benvenuti al Vito Weekly, l'ultimo estivo, ci prepariamo quasi tutti a questo punto a tornare al lavoro Chi non tornerà al lavoro lunedì, probabilmente ha lavorato agosto, però comunque pezzo di fango, tipo Stone 21 che è partito ieri Ha fatto delle ferie, però Stone 21 c'è da dire veramente di merda, cioè una settimana, una settimana al lavoro, un'altra settimana e poi di nuovo al lavoro, minchia, uccidimi Non ti riesci secondo me a godere veramente un cazzo, né come i sogni dico ok, devo fare un mese di ferie Voglio fare 100 figli così posso avere 100 amici e non possono rifiutarsi, dice Metsaghera In realtà durano poco i figli che non si rifiutano Metsaghera, arriva proprio presso il momento in cui non vogliono più stare con te Ringraziamo ovviamente Cinque per la sigla, oppure Moragno, lo sa solo Dio Ciao Askerrico A Stone tanto piace soffrire a quanto pare, sì sì era tutto contento per il cane che andavano in vacanza eccetera eccetera Partiamo signori a palla di fuoco con la prima recensione, indovinate chi è? Indovinate chi è? Concord Alla fine Concord Non se l'ha inculato nessuno, mi pare fattuale Ma è un bel gioco o è un brutto gioco? Io pensavo che era bello, porca miseria, non benissimo Il Metacritic, porca troia 62 Non me lo aspettavo, quindi non è proprio piaciuto Andiamoci a vedere gli italiani Ah, gli italiani l'hanno trattato malino, anche loro 65 devi le hai, forse neanche a Gollum è salutato 65 Non è un indovina VG, indovina VG, dobbiamo proprio decidere cosa fare quest'anno ancora Articolo a cura di Giovanni Panzano Concord è un hero shooter con un comparto grafico efficace e un gunplay davvero divertente Caratteristiche che però non riescono a risaltare per via della presenza di problematiche non di poco conto Sia in merito al bilanciamento del roster, sia in merito alla caratterizzazione dei singoli combattenti Il funzionamento della modalità round è da rivedere Il sistema di progressione ci è parso privo di mordente A causa di ricompense non degne di attenzione Insomma, attualmente la situazione del titolo, a firma Firework Studios, non è affatto rosea Cosa avevano fatto questi prima, ragazzi? Intanto Retro Biggini, con un sistema di specchi e ledi, ci riporta il ride che avevamo fatto a lui questa mattina Fantastico, dovremmo farlo tutto il giorno, Retro Preparati tra un'oretta e mezza, non credo di più, fatti ritrovare in live che continuiamo questa cosa all'infinito Intanto Davio77, lo ringraziamo, si è abbonato con Prime per 60 mesi, grazie caro Sono uno studio nuovo creato da Sony, non avevano fatto niente, ok Sai perché ero rimasto un po' perplesso all'inizio? Perché c'era un comparto grafico efficace e un gunplay davvero divertente Dico, vabbè, che cazzo vuoi? Invece poi ha spiegato secondo me i motivi per cui non gli è piaciuto che hanno anche senso 6.5 Multiplayer ancora meno con 60 A cura di Lorenzo Mancosu Che non ce l'avrei visto a giocare un gas, diciamo Se da una parte Firewall Studios ha dimostrato ampiamente tutta l'esperienza maturata dai suoi sviluppatori nei fondamentali degli sparatutto in prima persona nella costruzione del mondo Dall'altra Concorde è una produzione che non riesce a far brillare quel talento come dovrebbe Con un design degli eroi del tutto dimenticabile, una serie di meccaniche spesso contraddittorie, nonché un bilanciamento generale che sembra richiedere ancora tanto lavoro Fatica ad andare oltre la sufficienza garantita dallo scheletro della formula FPS e dall'elevatissimo grado di pulizia tecnica Il problema più grande tuttavia sarà il modello di distribuzione Dopo aver rinunciato ad affrontare un'indispensabile fase di test assieme al proprio pubblico Sceglie di debottare sul mercato come l'unico hero shooter a pagamento Senza offrire validi elementi a sostegno di tale decisione È sicuramente un problema La mia percezione è che anche Free2Play non si sarebbe smosso di granché Forse qualcuno l'avrebbe provato un po' di più Ma io non mi aspetto che sarebbe diventato una roba importante Più che altro c'è da chiedersi cosa faranno dopo Dice Bruce, minchia, che tramba ragazzi Ma non è manco loro la colpa però Per me bruciare loro sarebbe un peccato È chiaro che Sony adesso se rinuncia un po' a questo modello Un po' di troppo ce n'ha La Game Director aveva lavorato i primi due Assassin's Creed e gli altri giochi dopo Ok non è quella di Assassin's Creed È sempre lei, non c'è credo È quel team là Come si chiama quella che facevano vedere sempre con Assassin's Creed Hanno preso i soldi di Sony per 8 anni A miei tempi il 6.5 si festeggiava Dice Moragno A qualcuno si faceva pure regalare il motorino Nei videogiochi però è un'altra scala Non è quella esattamente scolastica Moragno Mica male per 700 giocatori di picco Forse provato Dice Punkbutt Però per esempio è vero che la beta Era comunque la beta di un gioco che sarebbe costato 40€ Quindi è un po' diverso misurare Quei numeri là Però è pure vero che se è una roba che ti entusiasma La beta te la provi Anche se poi si deve pagare Cioè se sei curioso in beta ti ci butti Quindi boh Secondo me era proprio zero l'entusiasmo Non ha funzionato la parte di comunicazione Il mercato è satro Tante motivazioni E' chiaramente follia i 40€ Ma non credo che sarebbe cambiato molto Quindi alla fine forse Gli è convenuto prendersi Sì 70.000 Quante avrà venduto? 20.000 copie ho letto Per 40€ quanto fa? 20.000 per 40€ Fa 800.000 Fa 800.000 euro eh La fine è meglio di un cazzo Forse se partiva il bonifico di 50€ da Sony Ad ogni prima installazione qualcosina faceva Un po' sì Vito Se vedi quello che scrive il dareto su Twitter Ti metti le mani nei capelli Cosa scrive? Lei è famosa ma lo studio è nuovo Adesso cerco il nome È Jude Redmond Cioè è peggio di Di Harrison Cristo Qualsiasi cosa tocca è andata a puttane È incredibile Ah Jude Redmond sta lavorando a una roba simile Ma non sono questi Dice zio Attenzione mi state confondendo ragazzi GDR cazzo Ah no GDR mi spiegava Chi era quella di assai Ok no Overwatch all'inizio si pagava E sì Pambut Però in un altro momento storico Completamente un altro momento storico In cui il mercato era meno saturo Banalmente C'era meno stanchezza sui gas Si erano imposti meno GTA 5 Fortnite Cioè Capisci che è importante Se alcuni giocatori Sono bloccati su tre battle royale Di Medio grande successo Apex Legends Che non so come vada adesso Ma comunque qualche numero lo farà Warzone e Fortnite Vanno benissimo E poi lo spazio è meno È uscito l'hero shooter In quel momento Sembrava andare Ma la gente dopo Overwatch Si è pure rotta il cazzo Degli hero shooter E infatti Overwatch 2 Non va 6-5 Comunque il rapporto I soldi spesi Non è il massimo Dice Mirkotto Ma ormai Il suo mercato saturo Lo butti gratis O stai senza speranza Anch'io la penso così Comunque secondo me Era senza speranza Togli da Zonda i preferiti Che stai facendo male agli occhi Cioè da Zonda i preferiti? Sì hai ragione Hai ragione Perché non ce l'ho più NoPang Ha davvero senso Mettersi a tavolino Per sviluppare titoli gas Che ricerchino Il successo mondiale Come se esistesse Una formula matematica A garantire la riuscita Se penso ai titoli Di questo tipo Che hanno avuto successo Sembrano tutti usciti dal nulla E senza un vero ragionamento Dietro No Warzone Non è vero NoPang Insomma Il loro successo È accaduto E basta Non era prevedibile Solo Warzone Fa eccezione Ah lo scrivi anche tu Bravo Ma lì è stato Il marchio COD Ad avere spinto Il progetto Marchio COD Anche Apex Legend È costruito a tavolino È vero che non diventa Quella roba glamorosa Tutto il resto GTA Possiamo veramente dire Che è costruito Casualmente NoPang Perché guarda che GTA 5 È costruita Anche la campagna Con quell'idea in testa Quindi Sì e no Sono abbastanza d'accordo In linea di massima Secondo me non è Anche Destiny comunque Non è casuale Secondo me Il successo di Destiny Secondo me È facciamo quella roba là Per arrivare a fare Totsoldi Ed ha funzionato Per un po' Sono d'accordo Che non sia Secondo me sensato Provare a fare Quella roba là Non provando A metterci Un'idea dietro Perché serve Che si inneschi Sta scintilla E non è Facilissimo Ed è molto casuale Ed è molto Dipende da che cazzo Passa per la testa Dei giocatori Guardate il Divers 2 Cioè A volte va E così Perché ci provano Così tanto Guardate Ubisoft Ubisoft ha provato 800 giochi Di questo tipo Perché Se ti riesce È una macchina Da soldi Senza senso Molto meglio Di tutto quello Che fa il mercato Dei videogiochi Tradizionali Molto meglio Per più tempo A meno costo O meno rischi E quindi ci provi Ci sta secondo me Prendere una parte Delle risorse Per provare a fare quelle Secondo me Devi farlo meglio Come idee di Concord Ciao a chi è arrivato Comunque se l'hanno fatto uscire Non cancellato Come gli altri gas Loro evidentemente Dissi pochi soldi Ne avevano bisogno No In Erbago Banalmente Poteva essere In una fase Più avanzata Di sviluppo Degli altri E quindi Dici vabbè Se mi arrivati Ormai che cazzo Si è inizi a cancellarlo A Sony Non cambia Granché Di 800 mila euro Per cui ne spendi 500 mila Per fare la serie tv Su Amazon Secondo me No Questa toria Non mi convince Poi tutto è possibile Secondo me Era Questo è quasi finito Lo buttiamo fuori The Last of Us Mancano tre anni Di sviluppo Uccidiamoci Errore mio Dice Marco Joker Lei sta facendo Fair Game Un altro gas Che durerà tre giorni In modo positivo Fabio Volante Ciao Anche Apex Pensalo a tavolino L'ho detto Assolutamente In quel momento Però era Molto forte Ancora L'idea del Battle Royale Poi è arrivato Warzone Che ha anche COD dietro Oggi Boh C'è anche PUBG Che qualche numerino Se lo fa Secondo me Certo è veramente Un'operazione triste Secondo me Dicevo in Erbago A livello di Sony Io non ricordo Nessuno dei grandissimi Prendere una trambata Così Forse Wii U 20 milioni Di console Ah Botta forte Questa Beh anche One Però One Alla fine Qualche numero L'aveva macinato Io Non c'ho gli occhiali Da lettura Vero che coglione Wey Magari alcuni costi Sono stati distribuiti Il netcode Sarà Stato diluito Nei vari gas Omoragno Il successo di Destiny È la droga Guardate Idi e Stone Sì sì Ma il gas È più o meno Quella roba là Non credete Tra l'altro Sottovalutiamo pure Un drogato come Stone Per esempio Perché lo tiri più fuori Facilmente da Destiny Oggi Perché sei infognato In Marvel Snap Tu adesso Parli con Stone E lui Tre volte Non ti risponde Perché sta Giocando la roba A Marvel Snap Faccio Stone Come sempre a caso Però L'uscita di nuove droghe Vincenti Comunque Si rosicchiano Una parte degli utenti Che alla fine rosicchi 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 Non manca un caso Cioè o trovi altra gente Come ha fatto Wigo Le vecchie Oppure abbiamo un po' Di incastri PUBG dovrebbe essere ancora In top 10 Di quale classifica Però Massacre L'hanno comunque portata avanti Per otto anni A un certo punto Provi a farlo uscire Per forza Almeno per recuperare qualcosa Ma anche perché Ronin Banalmente Essendo E lo sanno anche loro Secondo me Che è tutto molto casuale Scusate Sai pure che Oh Magari lo gioca Uno streamer Della madonna Che si diverte Un casino E Ti si innesca Piano piano La chiacchiera E magari Non ti fai Dieci anni Alla Destiny Ma riesci ad avere Un successo Molto Forte all'inizio Come il Divers 2 Se ti riesce Quello Vendendolo a 40 euro Va bene Non è un fallimento Glamoroso Ah De più giocati Su Steam Grazie Dream Non è stato creato Da Sony Ma ha acquistato Loro già stavano Orlando a Concord Prima dell'acquisto Dice Dream Grazie Della precisazione Ciao Char Vogliamo leggerci Un'altra italiana Se lo troviamo Perché Ancora più in basso Vediamo Se c'è qualcuno Sbruvo 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 Siamo ai 4 No Questi erano Il massimo Degli italiani Idy dice Nah Che si è rotto le palle Come me Di Destiny Parla di Stone Alla fine Per fare durare Sti cosi Devi rivoluzionare La formula Ogni 8 anni Altrimenti Muore da solo Parlo di roba Con una storia Come si faccia A giocare Per 15 anni Solo COD E FIFA Meriterebbe Uno studio Approfondito Beh però Non è una roba Di storia È proprio Fare solo Quello Secondo me Invece Sai che Idy A tanti giocatori Piace quello Cioè Io Il giocatore Compulsivo Di COD online Non Warzone Lo capisco abbastanza Cioè Ti piace? C'hai quel poco di tempo al giorno Non devi imparare niente Mi faccio Anche Warzone In realtà Mi faccio Una due partite E poi me ne vado a dormire È L'abitudine Funziona Per i videogiocatori È Invece Quando li costringe A cambiare Io ho iniziato Star Wars Su Ubisoft Che secondo me È molto brava Invece ad accompagnarti Nei giochi Tutta la roba Dell'interfaccia Sistemi La mappa Capisci cosa fare Dove fare Cosa è la roba Da upgradare Dove andare Come funziona la nave Come funziona Quella roba È faticosa Ed è faticosa Per me Che lo faccio 400 volte In un anno Quindi diciamo Che non sarò un genio Ma sono abituato A farlo Eppure E tu lo chiedi Ad altri Che invece Sta roba Secondo me Non la vogliono fare Non ci provano Quindi boh Ciao Iyachi Carissimo Iyachi Ti stai perdendo Un po' troppo Lorelei Forse perché l'hai già visto Tu d'Antonio Lorelei Perché ti piacerebbe Oggi meno genio del solito Però 37% Non voglio dire altro Ma 37% Andiamo avanti Abbiamo finito con Concord Atari ha annunciato La nuova retro console Atari 7800 Plus Prezzo Data d'uscita E giochi Tipo C'è stato un momento storico In cui queste mini console Ragazzi Dovevi fare appugni Per averle Ciao Just Di Lorelei Dopo un po' La gente Si è rotta il cazzo Cioè funziona così Va anche a moda Il mondo dei videogiochi Non è facilissimo Proprio Capire le cose Plyon e Atari Hanno annunciato Atari 7800 Plus Ovvero una rendizione fedele All'originale All'originale console Uscita nel 1986 E considerata davvero Storica C'è stata una console Atari Che si chiamava 7800 Plus Fanno schifo Le nuove retro console Dice Persona Quelle prime invece Erano belle Ricordo il NES Mini Venduto a peso d'oro Io non me le sono Proprio inculate mai Ammetto Atari La data di uscita Fissata per il 29 novembre Sarà disponibile Al prezzo di 120 euro Con incluso il titolo Bantris Beer Crystal Quest Seguito di Crystal Castle Con prenotazioni Già aperte Presso il sito ufficiale A questo indirizzo Scusa Ma solo un gioco? Incluso nel pacchetto C'è anche il controller Wireless SCX88 Plus Che riprende anche questo La forma tipica Dello generale Ma con connettività Senza fili Sempre il giorno di lancio Il 29 è previsto L'arrivo di 6 giochi Per Atari 7800 Plus Due nuovi controller Cioè minchia 120 euro Per due giochi Del 1900 Porco zio Ma siete impazziti Ci guardiamo il video Quella del genghia Era la giustizia Di lì Sì Le dice Papa Smanas Ciao per Ceptro Ah compatibile Con cartucce originali Carino questo Di Atari Io vi consiglio sempre Lo consiglierò Fino alla morte Il documentario Di Digital Eclipse Interattivo Perché è una figata Proprio sulla storia Ci sono disegni I bozzetti Veramente una meraviglia Mi sembra un furto legalizzato Deve uscire Un sacco di tempo fa Questo è molto scam Avevo dimenticato Che l'Atari 7800 Era senza coperchio Antipolvere Dice Just No è niente audio Solo per il primo canale No c'era l'audio Vedi Forse è un po' basso Eh lo alzo allora Eh scusate La prossima Ve lo rialzo Vabbè Era la musichetta Del cazzo Monster Jam Showdown Metacritic Questo è un gioco Di milestone Ragazzi Di cui Voglio per alzata di mano Quanti di voi sapevano Che dovesse uscire Questo gioco Perché io Che seguo Ma ero perso Che doveva uscire Questo gioco Non me lo ricordo Me lo sarò dimenticato Dove capire 71 Spazio Games Di da 80 Quindi parte a palla di fuoco Recensione di Giulia Carassino Che è la super esperta Di Spazio Games Di auto Anche molto tecnica Monster Jam Showdown Si è rivelato essere Un titolo decisamente Divertente E accessibile Il sistema di guida arcade Permette di attirare E soprattutto Tenere con volto Un pubblico ampio Senza nulla togliere Al divertimento Ai contenuti Abbiamo anche Tante modalità di gioco Una buona varietà Di track E personalizzazione La proposta Di casa Mystone Stavolta ci piace Convince E diverte Sui due punti Ho qualche perplessità In generale Però Potrei essere una pippa Io non lo escludo The Game Machine 75 Ma lo dice Per lo show Dice Ronin La prima volta Che lo sento In cuffia In cuffia si sentiva Di conoscenza Ma qualche decennio Ma qualche decennio fa I Monster Jam Si guadagnano La loro fetta Di popolarità Anche in Europa E ora tornano In forma giocabile Grazie al team Italiano Mystone Il quale ha messo La sua esperienza Al servizio Di un racing game Molto diverso Dai suoi standard Qualche inciampo tecnico È un'offerta 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 Scarma In termini Di modalità E gli impediscono Di ambire A radiosi Traguardi Tuttavia La roadmap Di contenuti Per i prossimi mesi Sembra promettente Ci credo Andiamo a vedere Se ce n'è Un italiano Molto basso Non mi pare Forse Multiplayer 70 Vabbè Basta Mi pare Sufficiente C'è Star Wars Sai Io non ci avevo pensato Che era la settimana Anche del metacritic Di Star Wars Qua Secondo me Possiamo anche Un po' Litigare Star Wars Ha questo Metacritic Non Non un gran che Ciao Angelo Non c'entra niente Ma Wattam Di Takashi Lo avevi giocato Recensito Né giocato Né recensito Ieri In realtà La prima risposta Ovviamente Alla prima Corrisponde La seconda Star Wars 76 Vediamo gli italiani Che in realtà Sono stati molto alti Rispetto a molti Altri Perché io ricordo Gli 85 No No Perché aspetta Forse è la versione Questa è PS5 Su PC È un po' Più alto Abbiamo The Game Machine Multiplayer E poi andiamo A cercare le altre Dai The Game Machine Prima 85 Hanno vinto loro Per posizione Marco Bortoluzzi Non sono un grande fan Negli open world Di Ubisoft Ma Star Wars Outlaws È un gioco Che è riuscito Senza ombra di dubbi A convincermi Ed è riuscito A farlo Nonostante Meccaniche stealth Un po' Grossolane E una scarsa varietà Delle sessioni Di platforming Grazie a dei personaggi Le cui vicende Ti tengono incollato Dall'inizio Alla fine Dall'inizio Alla fine Cazzo In una storia Del ritmo Dal ritmo Sempre alto E di cui vuoi sempre Vedere il prossimo capitolo Inoltre riesce Perfettamente Nel compito Di farti Sentire Immerso Nell'universo Narrativo Di Star Wars Boxino Pessimo Andiamo a vedere Multiplayer Filtrali Per chi non ha Il banner Sul sito Dice Heidi Voti molto alti Quel poco Che ho visto Mi è parso Banalissimo Sì La mia Il mio giudizio Non brutto Però E gli aci Attenzione Non brutto A parte lo stealth Che secondo me È la parte Proprio Debolucce A parte che pure La sparchino Nel massimo Però non brutto In assoluto Non ha merda Però banale Sì cazzo Banale si può dire La Mammella di Ubisoft Sempre ronta Sfamare tutti No ragazzi Basta Lo statorie Sennò è insopportabile Ci sta che I italiani Ne capiscono Un po' di più Quando si parla Di arte Grazie Chi l'ha scritta Questa Devo tornare Su Dramma Tommaso Pugliese Star Wars Un ottimo gioco Di Star Wars Una bella avventura Con una bella storia Dei bei personaggi Tutti Perfettamente Collocati All'interno Di un quadro Assolutamente fedele E rispettoso Di questa proprietà Intellettuale Non ha chiaramente Lo spessore Di un folle nord Sul piano dei combattimenti Nelle sfaccettature Dei migliori RPG Ambientati nel medesimo Universo narrativo Ma in termini di gameplay E struttura È senz'altro ricco E interessante Molto solido Sebbene tutt'altro Che originale E graficamente Su PC È in grado Di regalare Sequenze Davvero successive Suggestive Spettacolari Non accade spesso Che la galassia Lontana Lontana Venga rappresentata Così bene In un videogioco D'accordo pochissimo Io ragazzi D'accordo pochissimo Con un sacco Delle cose Che ho letto Per il momento Ti sto leggendo Se filiero Queste cose Non so cosa stai pensando Non leggere La mia recensione Però te lo chiedo Per favore Non voglio litigare Non leggerla Scusate PS5 C'ero già Ehm Lo trovo Tra l'altro Non voglio fare Trompicazzi Però è proprio Questo giudizio Su Star Wars È proprio In contrasto Quando Su altri giochi Che leggi In cui è Open World Moderna Rottercazzo Quella roba Non funziona Minchia Ma questa può essere Una storia Incredibile Io che l'ho Visto una gran parte Sono arrivato anche A un colpo di scena Adesso Ma minchia Ma è proprio Pensare che i videogiochi Non possono fare Narrativa Se dici Che questa è una storia Incredibile Poi capisco anche Perché la gente Si innamora Dei film Marvel E ne hanno parlato Come il cinema Della vita Forse non capiscono Proprio un cazzo Di storie Secondo me Lorenzo Mango Perché non è Questa non è mai Una storia incredibile Raccontata bene A un grande dialoghi Ce la guardiamo Cazzo Star Wars 8 La seconda produzione Che omaggia Nel migliore dei modi Il materiale Di riferimento Al netto di alcune Imperfezioni L'impasso ludico Tra azione Stealth Funziona E il merito Da ricercarsi Anche nella bellezza Delle ambientazioni Che fanno da sfondo All'emissione D'alto rischio Affrontare Capace di offrire Attività Attività più soddisfacenti Avrebbe fatto brillare Ottolos Ancora di più Ma ad ogni modo Parliamo di un gioco Che gli appassionati Della saga Non dovrebbero farsi Scappare Nei bassi fondi Malfamati Dove l'aiuto dei Jedi Assente Vige la legge Del più furbo Con una lingua tagliente Un amico Dalla zampa lesta Può ritagliarti Un posto Nel grande universo Di Star Wars Non lo so ragazzi Non lo so Diciamo che non inventa niente Ma quello che fa Lo fa decentemente Non tutto in realtà Ti ho letto zio Adesso ti rispondo E in quanti si scuseranno Un anno dopo Per i voti a Star Wars No Non si scusano mai Cominceranno a parlarne Come la più grossa Merda del mondo Improvvisamente E diventa un fatto Su The Division C'era più amore Da parte di Massive Quella città Era incredibile E qui mi pare Avessero Un po' Il pannolone pieno A confrontarsi Con un'epì così grossa Secondo me The Division Funziona molto meglio Anche dal lato Proprio Dalla sparatoria Direttamente La roba di provare Lo stealth Secondo me È proprio una roba Che non gli è riuscita Granché Lì però Era più facile Fai un'ambientazione unica Qua dovevi fare Vari ambientazioni In vari mondi Che dovevano essere Vagamente open world Cioè Non ti dico che era Starfield Ma alla fine L'idea andava in quella direzione Secondo me Cioè L'idea probabilmente Di crescita Se va benissimo È quella di aggiungi Il pianeta Quindi era molto più complesso Secondo me Di fare The Division The Division Era bello però Era molto più bello Dettagliato Qui hai proprio Quella percezione Di un mondo Fatto con l'accetta In cui è tutto uguale Anche le missioni di storia Sono avamposti In cui si ricicla Molto la roba Ormai sei Un arido Senza cuore Una volta Eri Guns Dice Zio Feliero Mi meritate Oguar Legacy Perché questa roba Però Zio Feliero Mi è più strana Da capire Perché su Oguar Legacy Tu ce l'hai La lettura Di un gioco Perché qua no Per me È meglio Questo da giocare Sono d'accordo Con te Se me lo dici La roba delle quattro magie Con le quattro ruote Secondo me Era proprio terribile Padda la mano Però C'aveva altre cose Che questo non ha Hogwarts Dove sta il tuo messaggio Del cazzo Sulla storia Zio Feliero Di Spider-Man Dov'è? Lo devo trovare Ma infatti Sta roba Senza Happy Star Wars Sarebbe stata La fiera del 16 Che è Non lo so Possibile Io non credo Per esempio Che faccia Che tu ti senta Molto coinvolto Nell'universo Di Star Wars Non ho percepito Troppo È vero che io Lo conosco Relativamente Quindi magari Chi conosce L'universo Di Star Wars E a quanto pare Tutti i recensori Sono grandi Conoscitori Di un universo Di Star Wars Ce l'hanno visto A me A parte Qualche droide Messo qua e là Un Boba Fett Una cazzata Questo è un gioco Che poteva essere Qualsiasi cosa Che non è un male Secondo me Meglio che non Vai a riprendere L'universo Però non è manco Vero che minchia Il fan di Star Wars Roba sa Dei giocati La puzza Di Star Wars Ovunque Si e no A sto punto Tocca aspettare L'uscita di Spider-Man 2 Su Steam Per vedere Come si fa Una grandissima storia Allora La grandissima storia Non lo era Era godibile Secondo me Sono d'accordo Che non era La storia Clamorosa Con grandi dialoghi Quello che mi è piaciuto Un sacco di Spider-Man 2 E' come la storia Si sposa bene Con l'open world Che per esempio Questo gioco Non fa manco Per il cazzo Non è vero Che tu fai una roba Di storia Stai a un certo punto E allora le missioni Io poi sto tirando dritto Le missioni Si muovono Tutto il mondo Funziona per cazzi suoi Tu fai le tue missioni Per cazzi tuoi Quella roba Io dell'open world La trovo Narrativamente brutta Secondo me Spider-Man 2 Invece riesce Adesso non Non posso spoilerare Ma fa delle cose All'interno del gioco In cui quella roba Si muove molto bene E io non ho detto Che era una grande storia Ho detto che è meglio Di un sacco di film Marvel che ho visto al cinema Anche qui la censura Fra voto della redazione E dei lettori È bella Grossa La cesura Scusatemi Dice Yachi Non lo so Sai Devo ancora sentirli I pareri dei lettori Vediamo Il problema su Ubisoft E Yachi È che il voto Del lettore Secondo me È proprio Vincolato da pregiudizie Cioè Su Ubisoft Si ragiona In un modo In cui Derby è scontato Lo vedo Quando ho scritto Delle cose E faccio fatica A dirle A scrivere Perché so Che molti Reciperanno Ah hai visto Era una merda Ubisoft Lo sapevo Che trovo odioso Esattamente quanto Osannare un prodotto Perché te piace Come fanno i fan Di front software Anche l'odio di Ubisoft Secondo me È artificioso Anche parlarne male A prescindere È artificioso Avrei voluto Un sacco Per questo Parlarne bene Però io non ce lo riesco A vedere Quello che ci vede Sio Nella migliore Delle ipotesi È un gioco mediocre Per un pubblico Che non sono più io Però secondo me Anche per quel pubblico È un gioco mediocre Anche per Sio Feliero È un gioco mediocre Non riesce secondo me Neanche a dare La quantità di ore Di contenuto Che vorrebbe lui Perché Anche la parte In cui deve mettere Missioni Extra Contratti Si riducono un po' A Va in quella parte Della mappa E spara la gente Alcune sono proprio gas Succedono delle cose Proprio brutte In cui fai quella missione Muori E sparisce Quello che c'è intorno La roba dello stealth Io non sono uno Che vuole lì A pulita Però se sto In un avamposto E sparo a tutti Quello a tre metri Non può dire Ok basta È finita Adesso non c'è più Il cattivo Finita così No Non funziona così Voglio una roba Un po' più Di cervello Non obbligo Magari fammi Costringermi a uccidere tutti Non costringermi Tra l'altro A quello stealth Ma non può essere Che ammazzo 40 persone E c'è il quarantunesimo Che sta là Dice Vabbè Andiamo avanti Nella vita Oggi è andata così Secondo me Questa roba È proprio vecchia oggi Il discorso È l'annebbiamento Dietro le IP Famose Succede per qualsiasi medium Ma Alien L'ultimo Se si chiamava Spesci Padventure Gli tiravano I gatti morti Dietro Si chiama Alien No Vabbè Allora sì Non ne hanno parlato benissimo Ma un po' Forse sì sì Per i fan del genere Quindi 8 No per me Io questa roba Invece la combatto Mirkotto Per me è un bel gioco È un bel gioco per tutti Un cattivo gioco È un cattivo gioco per tutti Per me Howard Legacy Non diventa bello Se sei un fan di Harry Potter Perché hai il fanservice A un certo punto La casetta Diventa per tutti 10 ore interessanti Perché molto belle Nella ripresentazione del mondo Il resto è merda Cioè per me quella Io non riesco a pensare Che un fan di Harry Potter Quella roba Va comunque bene Perché l'ambientazione è figa È divertente da giocare No Ci stanno tre nemici in croce Sì E va merda Non è un contenuto sponsorizzato Lo dico per i maliziosi In chat Dedivicio perfetto Come sparamuretto Da giocare A piccole dosi Sì sì Faceva il suo Niente di eccezionale Però secondo me Anche a livello scenico Dedivicio Uno e due Metteva in piedi Delle cose Che questo non riesce a fare O almeno Io adesso sono arrivato Al punto di non ritorno Penso di finirlo oggi Tra l'altro Credo sia impossibile Oggi e domani Una volta c'è stato Un bel posto Dove faceva un po' L'uncharted di merda Però il platform Quello scimmia Ma una volta C'è stato il tentativo Di darmi Un'ambientazione più figa Ora O hanno messo tutto Nelle secondarie O non ce l'ha È tutto Non brutto Da vedere Ma tutto molto Generico Tutto uguale Non hai la percezione Di dire che è bel posto Non è Cyberpunk Non è Red Dead Per parlare dei picchi alti Spadele 2 Comunque aveva anche Delle subquest Secondarie Facoltative Scelte con cura Per un open world Di sicuro quest Dei piccioni Con l'anziano Sulla panchina Mi ha strappato La lacrimuccia Aveva delle Subquest Ne aveva poche In realtà La roba Quella di consumo Ce n'era pochissima Quella roba Era un po' Più figa Narrativa Secondo me Ubisoft Non mi tira fuori Un gioco Che mi interessi Da dieci anni Io l'ultimo Che ho molto apprezzato Pur senza considerarlo Mai un capolavoro È stato Far Cry 6 A me è piaciucchiato Ed era un gioco In miglioramento Della serie Facendo sempre Le stesse cose Una bella ambientazione Con un po' Di idee Per migliorare E snellire la formula Questo Non lo so Non ci ha avuto Però guarda Che se uno Si fa prendere Dall'ambientazione Perché è un fan Di Star Wars O di Harry Potter Per quell'anno Ci passa pure sopra A com'è il gioco Super giovane Questo è una cosa Dire Per me quella roba È abbastanza figa Da dire sti cazzi Sono il primo Che te lo dice Cyberpunk Fase 1 Per me era Un brutto gioco L'ambientazione Il mondo E starci dentro Per me vale Da dire Nonostante Ma questo devo dire però Nonostante Sia un gioco Che non funzioni L'ambientazione Me lo fa amare Dieci Ok Non trovo Questo discorso Stupido Con impossibile Dire Siccome L'ambientazione È figa Il gioco È bello Funziona tutto Il gameplay È figo Per me È una stupidaggine Capito il punto Anche io Ho dato 9 A Cyberpunk Per me Cyberpunk Non funzionava Il DLC Funzionava meglio Ma era Banalissimo Che cosa Lo tiene in piedi Quello Sta a dire Quello Per me Ci sta che uno Abbia Della preferenza Ma però Non può cambiare Le basi Del discorso Il puzzle Ambientale Di Star Wars Otolos Non diventa Bello Se sei un fan Di Star Wars E il puzzle Ambientale Di Star Wars Otolos È Schiaccia il bottone Per vedere Do sta l'interruttore Mandaci a scimmietta Spara All'interruttore Al generatore Basta Dungeons of Ingenberg Con un sacco Di limiti E un gameplay Molto meno Pulito Di questo Ha dei puzzle Ambientali In cui devi un attimino Muovere il cervello E secondo me Se devi mettere Dei puzzle Ambientali Fammi un po' Muovere il cervello Se no Non ce li mettere Non è Sono obbligatori Si può dire Che il gioco Del Simon Finto O il Mastermind Siano fighi Il cazzo Sì Non sono terribili Ma quando L'hai fatti 8-80 volte In una base Vuoi morire Mi gioco Un indie In cui faccio Mastermind Probabilmente Voto vero Sarebbe una via di mezzo Fra voto un po' Accomodante Dei redattori E quello Inviperito Dei lettori E gli aci Il voto giusto È quello di Vito Iovara La risposta è che L'unico voto giusto È quello di Vito Iovara Quando se li gioca Vito Iovara Non c'è un'altra risposta A questa roba Fidatevi solo Di me Che può anche Non piacere A Zio Feliero Non piacciono I miei voti Lui lo sa E lui lo dovrebbe Leggere al contrario Averci l'IP Dietro Spesso porta A essere un po' Più Clementi Nel valutarlo Ci sta L'ultimo Vedi Final Fantasy Secondo me L'ultimo Era un ottimo film A prescindere Dall'IP È stato anche Recepito Bene dal pubblico Dice Perceptro Io ho sentito Pareri Un po' a metà Perceptro Non contrastanti Ma alcune cose Carine Una prima parte Decente Finale Non mi ricordo Di averne sentito Parlare bene È che molti amanti Di Harry Potter Dice Moragno Magari sono giocatori Occasionali Si sono comprati il gioco Solo perché Di Harry Potter Magari Più che il gameplay Li attira l'atmosfera Le citazioni Ci può stare Certo Non può parlare A me di videogiochi Però Moragno Il giocatore occasionale Non parla A me di videogiochi Harry Potter Lo recensisce Mancoso Su un multiplayer Non un giocatore occasionale È uno di quelli Che ti dice Non devi togliere La difficoltà Nel The Ring Perché sennò Ho la visione Dell'autore Come fai a essere Entrambe le persone Non credo che Mancoso Sia quella persona Credo che Mancoso Dia un giudizio Ad Harry Potter Adesso magari Non era Mancoso Sbaglio Dia un giudizio Ad Harry Potter Pensando di capire Cosa Ne vorrà Sapere Il giocatore occasionale Che è uno sport Secondo me Stupido Non interessante Magari giusto Per multiplayer Io non faccio il portale Non faccio il recensore Non è il mio lavoro Io trovo Che il lettore Che vuole Il recensore Che gli dice Esattamente Quello che lui Vorrebbe Potrebbe pensare Sia un lettore Stronzo Perché quello Che dovremmo cercare È il parere Del recensore Il giudizio Del recensore Non Il recensore Che prova a capire Cosa ne pensiamo Noi di un gioco Perché cosa ne pensiamo Di noi Gioca Perché non rompe il cazzo Cioè Il problema Che invece Quello si fa Mancoso Harry Potter Secondo me Gli fa schifo Non ci credo Che quella roba Lui non la consideri Una merda Perché l'ho letto Su Spazio Games Parlare degli open world Stanchi in quel modo Quelli Ubisoft Male Come uno Che si è rotto il cazzo Anche giustamente Poi ognuno C'ha il suo Anch'io Sono più stanco E non puoi avere Minchia Se no c'ha ragione Breaking Bad Siamo tutti schizofrenici Non è incoraggiante Per il prossimo Assassin's Creed Altro flop Ubinary A parte che non so Heisenberg Se questo è un flop Non credo che Assassin's Creed Possa essere un flop Perché c'è Flop perché c'è Una grande voglia dietro Io mi aspetto Un gioco bello Invece di Assassin's Creed Che non c'entra un cazzo Con questo in realtà Non è che fanno Tutti lo stesso gioco Angelo Anche Tatooine Era particolarmente vuoto Eppure sarebbe Avrebbero potuto Pecchiare dura Su quel pianeta Molto iconico Il pianeta è bello Da vedere in realtà Non è il problema Non è che è vuoto Red Dead Ragazzi è vuotissimo È desolante È bello ogni angolo Però non hai mai L'impressione Che ci hanno messo Gli asset Da una parte all'altra E quindi giri La fine su te stesso Per me non è il fatto Che sia vuoto Il problema Per me è stato così Il primo Space Marine Non è un capolavoro Ma mi piace 40.000 Per questi cazzi Lo adoro Ci sta Super Giovane Dice ok Stai facendo un altro discorso Da quello che pensavo Scala Vito Iovara Nei videogiochi Scala Vito Iovara Nei videogiochi Entro il 2010 Sì ragazzi Basterebbe fare quello Basterebbe guardare Solo Vito Iovara 9 attuni Che 3 Areberta Hai ragione C'è da evitarsi Solo di te Areberta Non so neanche Se ho dato il voto No perché L'ho mollato Non credo Di avergli dato Il voto E comunque Tu ti saresti fidato Di me Hai visto che Final Fantasy 16 Per errore L'hanno messo Gratis nel plus No Però non me lo rigioco Quindi è un problema Un po' come i 7 Lego Comprate solo quelli Che non compra Vito Se volete farci soldi Quello È un piano Che funziona Ma se parliamo Dell'anico di Nege Non sarei sicuro Che è stato recepito bene Dice Roni Sì sì l'ultimo Ah shit Il vivo again Joe Attenzione Primo messaggio Ciao Vito Un parere su Dead Space Remake Grazie Così durante il video weekly Te lo do però Joe Perché è il primo messaggio È il primo messaggio Che voglio accontentarlo È un gioco Che fa tutto bene Snellisce anche un po' L'originale Io l'ho giocato Sono arrivato alla fine Però ho proprio Che deciso Che devo smettere Di giocare in remake Perché non aveva Niente da dirmi Rispetto all'originale Personalmente Io però sono molto attratto Da l'atmosfera Quello che vuoi raccontarmi Quindi per me È stato proprio come Rigiocare un gioco Dell'epoca E non sono Interessantissimo Interessantissimo Personalmente A ripetere i giochi Che ho già giocato Però onestamente Era un bel gioco Funzionava tutto Ho schiacciato una cosa Per sbaglio Ed è un disastro Ragazzi Un messaggio Di omoragno Tra l'altro Elimita questo messaggio Rimuovi da primo piano Questo messaggio Ok ce l'ho fatta Tra l'altro Ho fatto questa cosa Non sapevo farla Incredibile Uno dei migliori episodi Del Vito commenta Vito weekly Parecchio incazzato No 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 Ormai non mi incazzo più Mi sono incazzato un po' L'altro giorno Da Wallone Mi sono pentito Devo stare attento Stavo parlando però Devo stare anche molto attento A non ferire I sentimenti di Zio Feliero Perché è una roba Che veramente mi dispiace Perché io sono uno Che l'ha amata Ubisoft Ragazzi Quindi Quando ne sento Parlare male A prescindere Ci rimango proprio male Mi dà proprio fastidio L'ho proprio combattuta Questa roba Di criticare Ubisoft Perché hanno fatto Per un sacco di tempo I giochi Che io volevo giocare E quindi ne ho sentito Parlare a sproposito Per un sacco di tempo Adesso sono stanco Anche del loro tipo Di prodotto Quindi c'è sicuramente Anche un po' Quello nel mio giudizio Però io adesso E non posso venire qua A raccontarvi che è bello Perché Ubisoft Però sarai un bugiardo E oggi Il The One Ieri Si sa niente Delle vendite No non si sa niente E ieri però 30 agosto Nel preorder Il prossimo Assassin's Creed È già venduto Alla grande Dice Alfiere Nero Assassin's Creed Venderà tanto Come al solito Ricordiamo che Valhalla Ha fatto il top Io credo che loro Abbiano un po' Cambiato la formula Con questo Ho avuto questa impressione Di trailer Magari sbaglio Per dire Star Wars fa una roba Che già amo Lo posso finire Altri open world Non puoi farlo Con il centore Questo si finirà In 17 ore Saltando il resto Per dire Per me questa cosa È già un plus Non gli è riuscita Benissimo Il modo in cui Fa finire a me Il gioco presto Gli era riuscito meglio In Assassin's Creed Forse Però Apprezzo che per me Ci sia anche Sto pensiero Assassin's Creed Io credo che vada In quella direzione Ragazzi Non mi aspetto Un gioco che vada Finito in 80 ore Come Valhalla Non ho visto Alien Romulus Alien Romulus E non ho visto Gli altri film di Alien Tranne il primo Tra l'altro Molto tardi Perciò Quindi non è proprio Il mio Non posso darti un giudizio Domani sul Corriere Falegname Romano Con attività in vendita Insegna il lavoro Di recensione Al più grande redattore Sul suolo italiano Nessuno lo ha comunque Scaricato Quello regalato Di Final Fantasy Beh non credo Sai Rebe Art Non è un gioco E sono un grande equivoco Dice Mindolino Vito secondo me È uno scandalo Che non se lo sia cagato Nessuno A me una nuova serie Di Survivor Fatta bene Così Lo avrei voluto Dead Space Sì Una nuova anch'io Quella stessa No Però Mindolino E secondo me Un po' ti uccidi Così però Però ci sta Però ragazzi In un mondo In cui si può fare Il remake di Croc Dopo che c'è stato Il remake di Spyro Sinceramente Credo che si sia toccato Il fondo Vi viene in mente Un gioco più brutto Playstation Per cui Possano fare Un remake Croc per me Era il punto più basso Di Playstation Ragazzi Quindi abbiamo finito È finito Basta Si deve ricominciare Da capo Sto mondo dei videogiochi Deve scoppiare Quindi non hai fatto Niente di spagliato Mettere in evidenza I miei messaggi Dove farlo più spesso Esatto Credo che adesso Disinstallerò Twitch Per questo errore Se l'hai bannata Hai fatto bene No? Però Fatto che è sabato Omeriggio E stai parlando Di VG Stavolta si può Perdonare Confusione Ho capita meno Questa Iaci Nel senso che Stiamo fuori Dal giorno Tipico Per Star Wars 8 Lost Pensavo Lo doppiassi Lo droppassi Sono stato Molto vicino Nella missione Che ho fatto prima Non in live Perché l'ho ripetuta 6-7 volte Era una di quelle stealth Che ho odiato Per tutto il gioco Molto aperta E stavo lì 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 Proprio per dire Vabbè Ma non me ne sta fregando Un cazzo Non mi piace niente Lo devo mollare Poi alla fine Sono riuscito Un po' forzando la mano Rompendo il gioco A Roma Proprio rompendola Cioè ho sparato Mi sono nascosto Dopo Una roba brutta L'ho portata avanti Adesso sto al punto Di non ritorno È difficile che lo mollo Però è una di quelle robe Alla Final Fantasy XVI Non dovevo giocarlo Ragazzi Non è più per me A prescindere Ciao Giorgetti Hanno annunciato Il remake di Croc Sì Giorgetti Un remake Non si nega a nessuno Però nel 3 Di Assassin's Creed Si vedevano nemici Con i livelli Quindi mi aspetto Una struttura pensata Per una roba Di più di 17 ore Almeno spero Io 17 Più di 17 Sì Mi aspetto però Che con 30 Si porti a caso Sai perché Zio La mia percezione Nasce solo da una cosa Il filmato Che si vede nel trailer Di congiunzione Tra le due parti Di gameplay Era bello Se fai E non era il solito Dell'Assassin's Creed moderno Col motore di gioco La telecamera Quella roba orribile Che si porta oggi Negli open world Che io trovo odiosa Quel filmato bello Mi fa pensare Che non ne abbiano Per 140 ore Però magari sì Cioè non è proprio Una percezione mia Horizon Zero Dawn Lo stanno facendo Il remake Vito No Non sono convinto Che Horizon Zero Dawn Sia un gioco brutto Pensa A me è piaciucchiato Croc Croc era una roba All'epoca del platform 3D Prima Playstation Gli ultimi giochi Ubisoft Che ho divorato Sono stati Soviet Assolta Far Cry 2D Nel tempo Si è evidentemente Rolto qualcosa Vito Ma io non sono contro Il remake Perché rendono Un gioco fruibile Al giorno d'oggi Non mi piace Che sembra Che tra quello Che esce Siano anche Quelli più apprezzati Significa che Stiamo alla cana Del gas Neanche io sono contro Il remake Mendolino Nettamente no Neanche contro Il remake Di The Last of Us 2 Non me ne frega Proprio niente Perché non sono Neanche convinto Che vadano a togliere Risorse agli sviluppatori Il problema è Che in un mercato Che ha poco spazio Con i giocatori saturi Con i giocatori Che hanno il gas Un po' di soldi Al mercato Li togli Anzi parecchi Perché poi Vendere Ti rivendo Final Fantasy 7 Funziona meglio Di un nuovo Final Fantasy A prescindere E quindi Se i soldi Sono pochi E tu te li vai A giocare Su me li prendo Con Final Fantasy 7 Non ci saranno Per il nuovo gioco E quindi ci sono Un po' incartati Ok è un fatto Però è pure difficile Diggli non lo fate Perché quelli Sono soldi più sicuri Di Final Fantasy 16 Banalmente Nel senso Che uno che arriva ora Potrebbe scambiare Per Vito Io Vara Commenta Ha senso Ciao Zohar Attenzione È arrivato Zohar Final Fantasy 16 Arriva Zohar Non c'è il cazzo da fare Vito Tu sei l'ex drogato Che non può più drogarsi Allora parla male Della droga Beh però posso Sono un po' dispiaciuto Dal Da non trovarci più niente Di particolare Perché per me Loro Ubisoft Per un po' Comunque buttava dentro Idee e varietà Aveva un motore Che era più bello In proporzione A quello che fa oggi Star Wars Quando esce Unity È il top sul mercato Assassin's Creed Origins È bellissimo Anche se là Si vedevano gli asset Cioè C'è stato un momento In cui loro facevano le cose Magari sempre un po' Stronze e banali Ma graficamente Super fighe Belle da vedere Secondo me Anche con delle idee Perché Assassin's Creed Ne parlavamo da volo Un altro giorno Guardate che butta Sul mercato Una roba che non c'era Stata prima Oggi non ci riesce Cioè Star Wars Outlaws È proviamo a fare Le cose banalotte Non riuscendo Secondo me Neanche bene Nella formula Io ho già droppato Dice Diablo Male male per me Salvo giusto Musiche d'ambientazione Meno male Che ho buttato Solo i 28 euro Ubisoft Plus Ci avessi speso 80 euro Sarei impazzito Ai tempi di Croc Se parli bene di Croc Ti banno Ti ho passato Fanno il fatto I 16 Croc Ti banno Ricordo che su PC Uscivano essenzialmente Dei giochi Che erano dei benchmark Per gli acceleratori voodoo Ok Tra l'altro Con la trilogia Del 7 remake Invece di avvicinare Nuove persone Lo hanno allontanato È un disastro Stavo già qua E te volevo prendere in giro Comunque hanno It's 1 di Tracos Dogma E dell'ultimo Devil May Cry Ha lasciato capo Come l'ho letto oggi Però vuol dire Un po' troppo poco Secondo me Winner bug oggi Sono director Non sai mai Qual è La loro impronta Sul team Su questi team giganti È difficile capire Esattamente Quanto contino Per me Poi magari Chi conosce bene Le persone Sa quanto fanno Me lo ricordo Unity al lancio Abbiamo fatto Il beta test Sul PC a me è andato Benissimo Moroni Che te devo dire Non ho mai avuto Il problema Però preferisco Un gioco che al lancio Va male Di un gioco che va bene Ma è banale Tra l'altro manco Star Wars È perfetto Devo dire che Star Wars Mi sa con la pace Di one si è aggiustato Un sacco Oppure era lo stream Adesso mi gira Abbastanza bene Dai Mica ha parlato bene Di Spyro No ma Croc Peggio di Spyro Per me O moragno Cioè Spyro Era bellino Da vedere Lo considero Un gioco odioso Ma era bellino Croc per me Era proprio Una roba Inguardabile Odiosa It's one è quello pure Di Power Stone Stava in Capcom Da 30 anni Vito sto giocando Supra Render Con quel gameplay Rustico ed essenziale Lo sto apprezzando Non quanto tema Lo sto apprezzando Devo sapere da quanto Stai giocando però Mendolino Perché parte rustico Ma dopo diventa geniale Sono i puzzle Che sono geniali Non il gameplay Gameplay Anazammer Che Croc Io ancora vedo gente Che chiede Remake di Spyro E The Medieval E io vorrei Mette le mani al Colom Buono Ti sei un po' salvato Zora Non hai avuto problemi Perché hai la 4090 No all'epoca C'avevo Eh forse avevo La 6090 Che era una scheda Forse in proporzione Meglio della 3090 Di oggi Perché c'aveva tipo Il doppio della RAM Di quanto avessero Le schede video Normalmente Quindi quando anche Sono uscite quelle dopo Era una scheda video Con il doppio della RAM Forse era quando Hanno smesso di fare Le slide Sì Aveva una bella scheda video Però Però E l'inchia Sera bella Che poi Medieval Era più bello Da vedere Quello Originale Dice Giorgetti Andiamo avanti Però ci siamo Un po' impantanati Ma che va bene Nintendo Direct Figo Andiamoci a vedere Le cose più belle Del Nintendo Direct Il primo trailer È di Neva So che voi Anche in live DLC 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 di Sino Stars Altro gioco Con un annebbiamento Generale Di rincoglionimento Importante Io quando Cioè Sentir parlare Così bene Di Sino Stars Da così tanta gente Mi fa uscire di testa Ragazzi Perché Perché Puoi pure dire Oh è talmente Bello Che Sti cazzi Me lo so Fatto Anna bene Però Palla al cazzo Indiscutibile Secondo Senza un minimo Della verve Di un Mario Luigi Di quella varietà Del divertimento E del bilanciamento Mamma mia Questo è un altro Gioco di quelli Che non avrei dovuto Finire Stai dando Del rincoglionito A Solichetti Se non me Solichetti È il tipo Il primo Che voglio invitare Per i 15 Per la vita Che ha dimostrato Grande amore Per il format Quindi nel caso Glielo diamo More sales Solichetti Credo anche Ha parlato Di grandissima Trama Per la serie Yakuza Cioè Non sono mai D'accordo Secondo me Ha dei grandi Momenti Ma non è mai Una trama Eccezionale Ah questo è Quello Super 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 Pazzo Mai per me Però mi piace La pazzia A questo livello Tutta colpa Dei nostalgici Degli RPG attorno No Milkotto Non è neanche Un RPG attorno De quel tipo Va molto più Verso i Mario e Luigi Quindi neanche Troppo nostalgico Non è Dragon Quest Io appena vedo Un RPG Mi sento male Un genere che ho chiuso In un bagno E messo in soffitta Mindolino è stato così Anche per me A lungo E l'ho riscoperto Con Xenoblade Di cui mi sono proprio Uscito di testa Quanto l'ho amato Il primo Per Wii E adesso ci riprovo Spesso Non sempre Funziona con me Però è un genere Che tutto sommato Può piacermi Bello questo format In cui si invita La gente Per poterla insultare In faccia Dai dai Non ho insultato tanto Sto cercando Di rispettare La community Omorani Siamo stars E' bello Come celebrazione Di The Messenger Ah di Cisorichetti No The Messenger E' più bello Da giocare Giorgetti Mettamente Mi è messager A me Mi sono divertito Come un pazzo Lo inviti solo Per dargli Il rincoglionito No Però se serve Gli lo diciamo Questo di Annapurna Sta sullo scaffale Ma senza problemi Dice Angelo Adesso ci andiamo a vedere Tetris Forever Tetris Forever Sono curioso Non ho ben capito Che cazzo vuole fare Non ho ben capito Che i Tetris Che ci sono dentro Io non li ho mai giocati Quindi non so neanche Se sia un prodotto per me Però io sapete Che i Tetris Sono palla di fuoco Se si innesca Che la gente Lo gioca online C'ho voglia Di un bel Tetris Competitivo Questo ricorda No One Save the World Non me l'ha ricordato Vabbè Sono giochi Per una certa Se quel genere Di roba giapponese Quei toni Ti fa venire La nausea Difficilmente La digerisci No Non mi fa venire La nausea Nel genere Nel tono Quel gioco Sì però Perché era brutto The Messenger Capolavoro Sono d'accordo Ai 15 per la vita Ho capito I JRPG Sono gli antipodi Con gli open world Sono giochi Che vai Quasi dritto per dritto C'è quello Game Boy Che conosco Tutto son mano Che è quello Che ho giocato Di più nella vita Più che altro A proposito di format Fantasma Quando torna E noi leggevamo Il mio preferito Nonché il format Da te più trascurato No No panga Torna Era trascurato Perché non riuscivo A leggere le riviste Tornerà tutto Adesso da settembre Con calma Date fiducia Però adesso Torna con più facilità Perché posso leggere Le riviste meglio Era arrivato a un punto Che non leggevo più Vito ma a te è piaciuto Dredge È quasi un gioco Di lavorare Con una grande Atmosfera O sei del team Non c'è gameplay No è un gioco Di lavorare Però sono d'accordo Collection Capcom È un gioco Di lavorare È piaciucchiato Anche là Ti dico È un gioco bello Ci rimani sotto Ci puoi passare Delle belle ore Se mi parli Se mi parli di capolavoro Perdo la testa È un gioco Che fa tre cose In croce A cazzo di gara Però mi sono svegliato Un paio di volte Alle tre di mattina Dicendo Vabbè Mi faccio un altro Paio di viaggi Però secondo me In giochi Infatti non ho voluto Manco guardarli Di DLC Che bello Il Game Boy Light Costo di Sotrevis 60 bombe Non lo so Penso di sì Tu dici Proprio Strutturalmente Non ti è piaciuto Io gioco tranquillamente Gnpg E probabilmente Recuperò Sì All Stars Ma a volte È proprio Troppo cazzone Non mi è piaciuto Proprio il gameplay Il combattimento La parte di action Secondo me Era proprio Noiosa E verbalmente Quello che si diceva Non funzionava Secondo me Non la storia Non mi è garbata Ciò ho trovato Proprio niente Di interessante Ed era proprio Noioso Perché poi Si allungava Proprio tanto 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 Con tutta la parte Che se morivi Dovevi ripeterti Tutti i combattimenti Casuali È un dito in culo Importante Aveva delle belle opzioni Di accessibilità Se non l'avrei mollato Perché diventava Anche molto impegnativo Collection Capcom Powers Online A palla di fuoco Sì Non la prendo Io però È una bella collection Secondo me Conizio Cambio L'avete finito Io sono Penso tipo a metà Io lo trovo Un capolavoro Perché è il tipo Di gioco Che mi convolge Non mi rompe le palle Con sistemi di gioco Complicati L'ultimo del sim Si merita comunque Ovviamente Se hai ancora voglia Mindolino Capolavoro Però si deve usare Per qualcosa Che non è Se no anche Tessine Capolavoro Cioè la roba Che ti tiene incollato In quel modo Perché fai Mezza cosa al giorno Cioè per me È un gioco di lavorare Un gioco di lavorare Un gioco di lavorare Con una faccetta Bella Perché usi un po' Sta roba Di mistero Però tendenzialmente Va là Pesca Va là Pesca Va là Pesca Upgrade Pesca Pesca Upgrade Pesca Pesca Per me Quello non è un capolavoro Però Sta che uno piaccia molto Mi piacciono i giochi di lavorare Un sacco Quindi lo sta dicendo a me Coremet di Pong In HD a 60 euro Te lo aspetti Da Nintendo Probabilmente sarebbe bellissimo Altra collection Questa è bella Castlevania Dominus Collection Là non ci sta esattamente Pong Però ci stanno 70 giochi di Terris Questi sono Due DS Dice tutti e tre su DS Non mi ricordo Due sono sicuramente Quelli DS Che io non ho mai giocato E l'altro che mi dicono Essere comunque molto bello Quindi è una grande collection L'ha presa proprio Mi va in fulco Da qualche parte Quindi credo di poterla giocare Io Ma non credo di averne voglia Diciamo che lo è per me Come omato Immortali Ma capisco Che non sono esperienze universali No Immortali Io lo capisco già di più Che possa piacere In un altro modo Mindorino Sai Secondo me invece Su Dredge Ti fai un po' Fuscare dal piacere Di giocarlo È come Marvel Snap Ci vado sotto Ci gioco Mille ore al giorno Mille ore al giorno Allora è capolavoro Secondo me lì Invece bisognerebbe un po' Combattere Oppure distinguere Se uno vuole Tra Il piacere che hai Nel fare una cosa E il fatto Se le meccaniche Siano effettivamente Una roba Clamorosa o no Non credo che si possa dire Tutti e tre 3DS Non ricordavo che ne fossero usciti 3 su DS Escono dalle pareti Sti Castilvania 3DS Più remetti Di Hunted Castle I 3DS Bellissimi Solo Tony Compra ste collection Ma Tony Penso che l'abbia già presa O la prenderà Vabbè però Anche sti cazzi Sempre su Switch Esce un gioco Che mi sorprende Se esce così presto Che è invece Civilization 7 Già presa e già finito Haunted Castle Ma è già uscito Minchia Tony gioca Un sacchissimo Comunque Minchia Grande Tony Mi dicevano che Il precedente È andato molto bene Su Switch Lo stava streammando Ieri È vero che non c'è Il calcio Tony Quindi ha una vita Migliore della nostra Però minchia Gioca Vito a memoria Il momento in cui Trovi quella cosa Mentre guardi Filmati di Immortality È uno dei momenti Più belli Videoludici Ma magari sono Esaltato io No no Io invece quello Lo capisco Secondo me c'è Del genio di Immortality Di Mingolino Non c'è in Reggio Non ti dico che Se piace a pochi Non c'è del genio The Spectrum È il nuovo retro hardware Di Retro Games Che uscirà Con 48 giochi Preinstallati Allora Il Commodore 64 Ce l'abbiamo avuto Abbiamo anche La versione Per persone Che erano Intristite dalla vita Simone Tagliaferri Scrive questo articolo È stato svelato Quale sarà il prossimo Retro hardware Di Retro Games Il The Spectrum Ossia una riproduzione Moderna Dello ZX Spectrum Quanti di voi Non avevano il Commodore 64 Ma avevano lo Spectrum Dai The Spectrum Sarà lanciato Il 22 novembre 2024 Avrà 48 giochi Prestellati Costerà 100 euro Ci state Giochi HD Però minchia Sono giochi Di un'epoca Proprio Non lo so Non riesco proprio Ad apprezzare Nessuno C'aveva lo Spectrum Veramente Io c'avevo Un cugino A Ceccano Che aveva lo Spectrum E se andavi da lui Ovviamente Lai i videogiochi Li seguivo relativamente Era uno di quelli Che ti diceva Commodore 64 Merda Lo Spectrum È molto meglio Gente intelligente Che fa uscire i giochi Il 27 Attenzione Sono le notifiche Di Ubisoft Connect Quante cose Si possono fare Nella vita Senza il pallone Nettamente Mircotto Io lo sto seguendo Meno E ammetto Che proprio Ti riconquisti Una parte di vita Proprio anche perché A volte sei banalmente Incazzato E non c'hai voglia Di farle le cose Che era meglio O peggio Molagno Bello questo Non posso pensare Di mettermi a giocare Alla roba Di questa Abito Abito in un'unica Simile Ma molto meno Volare Quindi non se lo Trocava nessuno Ma i giochi Uscivano Per farvi capire Quanto i videogiochi A volte Diano per scontare Delle cose Io in edicola Compravo le cassettine Le cassettine Avevano spesso Un lato Comodo 64 Ed uno Spectrum Non era scontato Per me Capire quella cosa Cioè che i giochi Di una Non potessero andare Nell'altro Visto che erano Sulla stessa cassetta Penso di averci messo Un po' A capirlo A capirlo Alla Cioè Non ho mai funzionato Ovviamente Quindi lo capivi Dopo un secondo Però per me Era Perché Con un bel ricarico Del 900% Se robe Le fanno A 0,40 Beh devi comunque Pensarlo L'hardware È comunque Per pochissime persone Ci hanno un po' Lavorato Non lo so Idi Cioè è un ricarico Ovviamente Però che costa 0,40 È una cazzata La bellezza Di 48 Giochi installati Meglio di quell'altra Che ce n'aveva uno Però Ti bruciano La retina I colori Plus Per risparmiare Mi hanno preso Il monitor A fosfori verdi Quindi invece Dei colori Avevo scale di verdi Anch'io Avevo il Commo 64 Avevo una roba blu I colori Li ho visti Tardissimo Io nei videogiochi Non c'erano nemmeno Le cassettine Per cpc Si Rischiava L'epilessia Ad ogni caricamento Avevo 100 cassette Che vendevano Insieme In bando Al pieno Di cloni Di giochi Per il Commo 64 Vabbè allora Ottimo Stigas Nuovo gioco Uscito questa settimana Passato proprio Un po' In sordina Visions of Mana Cioè un nuovo gioco Della serie Non se l'ha inculato Onestamente Credo più o meno Nessuno Qua si può dire Si può usare La parola Inculato Visions of Mana PS5 76 Neanche bassissimissimo IGN Italia 80 Grazie IGN Italia Che c'era un po' Mancata Oggi Di Alessandra Borgonovo Verdetto Voto 8 Visions of Mana È un gioco Che mantiene Le proprie promesse Presentandosi Ben confezionato E senza dubbio Un valido rilancio Della serie Offre un livello Di personalizzazione Della squadra Incredibile Data la quantità Di classi a disposizione E quel pizzico Di microgestione Delle abilità Che non guasta mai Tuttavia C'è un'evidente Disparità di forze Con una classe Specifica di Morley E non tutte quelle Presenti Possono risultare Utili o interessanti Non ci sono particolari Segreti da scoprire Ogni aspetto Viene dettato Dalla trama E la quantità Di missioni secondarie È un po' eccessiva Considerato il continuo Avanti e indietro E il fatto Che non siano Proprio tutte memorabili Ma non si può negare Che il gioco Manchi di contenuti La storia dolce amara Colora un'esperienza Che nel compresso Va indubbiamente Promossa Multiplayer 80 Andiamo a leggercene Una un po' Più bassa C'era un The Game Machine Spazio Games Spazio Games Spazio Games Lo punisce Di da 69 Hanno sciolto il team Ho letto Che è andato male Ho sciolto il team Ho licenziato Un sacco di gente Si Si parlava di rischio Licenziamenti Per lo studio Di visione Ma una peccata No rischio Credo che ci siano Proprio già stati Marcello Paolillo Con cui condividevo La redazione Agli inizi Del fenomeno Vito Iuvara Su Come cazzo Si chiamava Game Plus Vision on mana L'obiettivo di riportare I giocatori All'interno di un'esperienza RPG classica Tipica degli anni 90 Il gioco sviluppato Da Square Enix Distanze Dalle produzioni Ad alto budget Come Final Fantasy 16 Optando per un approccio Grafico semplice E uno stile di gioco Più tradizionale A fronte di ciò Quindi il titolo Punta a conquistare In primi I fan nostalgici Della serie Proponendo un'esperienza Che pur essendo gradevole Potrebbe non attirare I nuovi giocatori A caso delle sue ambizioni Limitate Del comparto tecnico Modesto Accettate queste condizioni E avrete in ogni caso Davanti a voi Un action RPG Gradevole Coloratissimo E in grado di farsi piacere Per un buon numero di ore Nulla di più Nulla di meno Vabbè Non mi ha fatto venire Nessuno dei due Una voglia Di approcciarlo Mi sembra Proprio la roba Più banale Classica del mondo Quindi Proprio Stigas Ancora una recensione Age of Mythology Retold Ne leggiamo Solo una Perché questa Perché questa è tipo Un remake Credo Che però È un bel voto 84 Sarà sul Game Pass Questa vero? Ma quando è uscito? Perché non l'ho visto Sul Game Pass Io? Ma perché? Continuo Ma non mi ha Stappi Xbox Se non la sistema Nel disastro Come al solito C'è un aggiornamento No Non lo vedo però Quando esce? Core Keeper Atas 4 Mafia Doom Doom Crash Non lo vedo Però i giochi Infatti Magical Delicacy Sono indeciso Se provarci A giocarlo o no Esce il 9 Pre-reorder Credo sia giocabile Grazie Uscirà su Game Pass Ma tra poco Mitorgi Avrà 30 anni O no Non ho più pali L'idea Andiamoci a leggere Le recensioni De Game Machine Perfetto Volevo loro 88 Gabriele Barducci E Geomitology Retold Non è solo Un ammodernamento Di tutto rispetto Bensì un'operazione Che assumerà i limiti Della nostalgia Presentandoci Un titolo Che ancora oggi Può e riesce A dettare leggi In un genere Che proprio Negli ultimi tempi Sta dimostrando Di avere ancora Tanti assi Nella manica Alle solite Ottimizzazioni Ci sono poi Tutte le novità I cambi attorno Grammatica E i cambi Attorno Grammatica E meccaniche di gioco Niente che vada A rovinare L'esperienza finale Per un divertimento Assicurato Ed una longevità Imponente I boxini Però veramente Troviamo un sacco Di refusie Lorenzo Mancoso Si è fatto anche Age of Metology Retold Age of Metology Retold Non è affatto Una semplice versione Rimasterizzata Certo Sin dal primo sguardo Si presenta in forma Smagliante Grazie alla moderna Architettura Del Bang Engine Al rifacimento Delle animazioni Nonché all'implementazione Della colonna sonora Orchestrale Ma è nello strato Del gameplay Che si nascondono Le novità Di maggiore impatto Ogni singolo elemento Dell'opera A partire dalle divinità Passando per le civiltà Disponibili Per arrivare infine Alle singole unità È stato evoluto e modificato In funzione del bilanciamento E dei ritmi delle partite E dei ritmi delle partite contemporanee Ma sono state integrate Anche diverse Novità assolute Nell'ambito Della qualità Della vita Se da una parte Ci si imbatte ancora In qualche problema Nei percorsi seguiti Dalle unità E un lavoro Tanto invasivo Quondimiamente generare Bug inaspettati Dall'altra Si tratta senza ombra di dubbio Del miglior modo possibile Per godere di uno Fra gli RTS Più divertenti Mai realizzati Dottor Ficus Ciao Ciao anche a Nintendo Sarà l'età a parlare Ma senza nulla Togliere Aimana O simili Piuttosto che uno Deste ennesime Riproposizioni Di RPG Già Por il gioco Cesa HQ Su Spectrum Dice Dottor Ficus Ci può stare Ognuno Il suo Io sono per Sposare il futuro Invece Proprio nettamente E' uscito anche The Crash House Che cazzo è The Crash House La recensione Non so se è un gioco uscito Ma che cos'è The Crash House Ah Quello di The Volver Quello del reale Di The Volver Si è preso un 74 La demo mi aveva fatto Proprio cagare Però non so Non saprei neanche dire Che gioco è Multiplayer 65 Di Giulia Martino Giulia Martino Scrive Baybox The Crash House È un prodotto Che porta orgogliosamente Il marchio di innovazione Di The Volver Digital Ma mostra anche Le smagliature Di un publisher Che nell'ultimo anno È parso sempre più In difficoltà E che ultimamente Non riesce a trovare Una killer hit Capace di conquistare Un ampio pubblico Difficile che ci riesca Il pur discreto Videogioco di Nerial Uno studio che ha dimostrato Con Car Shark Ah Quelli di Car Shark Sono amici Che era carino Di sapere il fatto suo Ma che in questo caso Non è riuscito a esprimersi A meglio delle sue possibilità Le buone idee Alla base di The Crash House Non riescono a brillare In maniera adeguata Anche a caso Della scelta di generare I dialoghi Tra i protagonisti Dei reality show In maniera semi-procedurale Un aspetto che non ha dato Risultati coinvolgenti E degni di nota Pur cercando di replicare La spontaneità Dei dialoghi Che avvengono In programmi televisivi Di natura analoga Senza contare Che i misteri più scuri Di The Crash House Si rivelano più scontari Del previsto In conclusione L'ultima opera di Nerial Resta interessante E presenta Delle buone intuzioni Ma non riesce A brillare Come vorrebbe Molto male Molto male Si devolvere Un po' fiacchina Devo dire Che a me Non è piaciuto Troppo neanche La Hunger Food Devo finirlo Ci scriverò Una recensione Però veramente Lo sto trovando Di una piattezza Vediamoci invece Una roba Che ha conquistato Tutti alla Gamescom Dopo aversi Fatto un po' Sognare Durante il non e tre Parliamo di Clay Rob Scura Expedition 33 Fist look gameplay Qualcuno si è ascoltato I provati E vuole Fare un riassunto Velocemente Di cosa sarà Questo gioco Dovrebbe essere Un RPG Un Final Fantasy XVI Che ce la fa Secondo me Da come ne sento Parlare Da quello che abbiamo visto Forse è lungo Sto gameplay Ne vediamo un pezzo Si sono otto minuti Vediamo un po' Di gameplay Dei a buffo Qua sembra Molto meno Bene Bello Del trailer Mondo bello La protagonista Un po' Me Eh volevo vedere Un pezzo Di combattimento Questo è proprio JRPG Cioè è a turni No è action Torno però Un sekilo A turni Dinamici Secondo Round 2 Un sekilo Ah no Proprio turni È un gioco Con combattimento A turni Più meccaniche In tempo reale Tutto ambientato Nella bella Epoca Epoca Bell'epoca Di una Francia Fantasy Io ho sentito Il provato di Round 2 E loro sono In pieno hype Da quanto ho capito RPG action Che ti permette Anche di fare Parate E altre azioni Con quick time event Che devi capire Seguendo i movimenti Del boss Ne parlano bene A turni Come Mario e Luigi Ok Quindi attacchi Però fai Delle robe Rusim E io Piacciare un pulsante Al momento giusto Non riesco più A trattarlo Dice Papa Smalas Che sia Stars Ha una dinamica Molto particolare Nelle parate Contraattacchi Gli sviluppatori Dicono che addirittura Potresti finire Il gioco In parata Vabbè Questo è per Vying Ovviamente Aggiungo che Mottura Nel provato Ha nominato Una porno star Questa cosa L'ho sentita Che gli è poi scritto Uno che la conosce Zohar Attenzione Sì La schivata E la parata Sono realtà E mi devo Conoscere Devi conoscere I tempi dell'attacco Per quello Dicono che riprende Da seghero L'hanno detto Pure gli sviluppatori Ciao brave Ciao Buon pomeriggio Scusa il ritardo Che avete fatto Finora Abbiamo fatto tutto Il riassunto Della settimana Siamo alle battute Finali Però Minchia Sembra molto Meno bello Da vedersi qua Rispetto a altre Verone figo Volevo vedere Un po' di più Del combat Ma C'ha Cosa c'ha poi Due universi Paralleli Perché qua Non è la Francia A me Sembra quello Che sarebbe Devuto essere Final Fantasy Sembra interessante Interessante Lo è Sicuramente Mi fa cagare Questo Genre di gameplay Mi spiace Perché la Sinossi Sembra Figa No Non la Nappi Un'altra Che è la Preferita Di Mottura Ma io Non le conosco Quindi non te la saprei dire Grazie Recupero la live Anche su youtube Sì Adesso faccio La cosa E la rigiro E anche su podcast Iscrivetevi a tutto Ragazzi Mettete like Mettete cuoricini E dobbiamo crescere Qua L'inquediatura In mezzo obliquo Mi ricorda Lost Odyssey Io l'ho iniziato Un paio di volte Non ci ho proprio Riuscito ad amarlo Lost Odyssey Come no È la Semna pulita Questa Ok Ha senso Bella Io non ho una Pornostar preferita No perché Non le conosco Proprio Sempre guardato Altro Pure io Non che non guardi Roba per masturbarmi Però altro Pure io Ho nominato una Pornostar Giusto Un minuto fa Non per questo Mi tingo i capelli Pastello Prima dovrei trovare Una miracolosa cura Che li fa Ricrescere Chissà Forse con L'IA Questo Quando esce Non me lo ricordo Truce Non so neanche se C'ha una data Non i cavalli Al ferre nero Cazzo Con roba Amature Quindi senza Pornostar Foamstars diventerà Free to play A ottobre Oh signori Questo è il momento Per giocare Foamstar Sapoon Non mi ricordo Chi è? Chi l'ha inventato Sapoon Ma è proprio Bello Sapoon È proprio Una roba Che vorrei Avere inventato Io I giocatori Che hanno acquistato Foamstar Su PS4 E PS5 Riceveranno Un bundle Di elementi Cosmetici Esclusivi Ah E allora Che includerà 12 varianti Di skin Design per Slideboard E un titolo Per il proprio profilo Allora minchia Andava a comprare Lo compro adesso Se è possibile Guarda Il posto 4 ottobre 24 Questa tra l'altro È Square Enix La social giapponesa Inoltre ha precisato Che non sarà più necessario Aver sottoscritto Un abbonamento Al servizio PlayStation Plus Per accedere ai servi Di gioco Cioè fatemi capire Prima dovevi Comprarlo E Essere abbonato PlayStation Plus Per giocare Foamstar Ma chissà Come è andato male Questo gioco Non viene spiegato Il motivo Di questa decisione Questa devo Farvela vedere Perché è molto bella Aspetta Ma è molto probabile Che dipenda Dall'esiguo numero Di giocatori attivi Ma sarà un po' probabile Guarda È una percola percentuale Secondo me Dipende da quello La notizia della settimana È stata invece Su cui tra l'altro Avete chiacchierato Un sacco Secondo me Dicendo anche un po' Di minchiate Anche voi Splendida Community Revitis Vela Control 2 Sarà autopubblicato Ma con un grande partner Allora Voglio prima andare a leggere bene I dettagli dell'accordo E poi ne parliamo Perché come l'ho intesa io Banalmente Loro Continuano a fare Il gioco Che cazzo gli pare E c'è uno Che finanzia Prendendosi il rischio Una percentuale Poi quando invece Le cose vanno bene Quindi C'hanno un finanziatore Che non è un publisher È un finanziatore Quindi Ottimo Poi è vero Che c'hanno anche I diritti Delle serie tv Però In Control 2 È un finanziatore Ho sentito però In questo accordo Dire Eh però Si sono liberati Di Epic Che finalmente Dal gioco Minchia Epic gli ha fatto fare Il gioco Che hanno voluto Alan Wake 2 Pagandolo Senza ricevere Al momento Nulla in cambio E loro hanno Più volte detto Che Alan Wake 2 L'hanno fatto Solo perché C'erano i soldi Di Epic Quindi ma che cazzo Stare dicendo In grande amicizia Mi è piaciuto Il giusto Brave Non da impazzirci Lato gameplay Pochissimo Devo essere onesto Tutto il pacchetto È invece abbastanza Come leggiamo Sul sito ufficiale Di Remedy Remedy è entusiasta Per quanto entusiasti Possano essere finlandesi Di annunciare Di essere al lavoro Con Anna Purna Che sta cofinanziando Lo sviluppo di Control 2 E sta Beh Cofinanziando Un po' diverso Vabbè al 50% E sta Portando i franchise Di Alan Wake E Control Alla film Serie 2 E altri media Il riferimento Al fatto che Anna Purna Oltre alla divisione intera Attiva è anche Una major cinematografica Cosa significa Questo per voi I nostri cari fan Prima di tutto Significa che Remedy È in grado di fare Control 2 Esattamente il gioco Che vuole Mentre ora abbiamo Anche un pattern Incredibile Per estendere Le nostre proprietà Intellettuali Da altri media Gli servivano Un po' di soldi Glieli ha dati Anna Purna Leo Grazie mille Per essere portato Livello 1 Per 7 mesi Inoltre pubblicheremo Control 2 Noi stessi Quando guardo Tutti i giochi Che abbiamo in cantiere Il futuro dei Remedy È incredibilmente Entusiasmante Potete contare Su di noi Per continuare A portarvi Incredibili Esperienze Vi deludiche Control a me è piaciuto Un casino Per esempio Sono davvero felidissimo Dell'opportunità Di spandere La storia di Alan Wake Di tutto il nostro Remedy Connected Universe A media Che vanno al di là Dei giochi E di costruire Questa Stretta collaborazione Con giochi Film TV Altri mezzi Di comunicazione Unciol si capisce Un cazzo Però I paroli Credivi di Anna Porna Si allina perfettamente Ai nostri Che rendono un partner Di grande ispirazione Per il viaggio Che abbiamo avanti Beh buono Che ci hanno i soldi Per fare le robe Con un po' meno di ansia Buono Che non è un publisher Che magari può incidere Solo fate Come dico Io Cioè Se vengono acquistati Come si pensava Un periodo Da Sony O da Xbox Secondo me rischi Poi che qualcuno Ci metta i bastoni Dalle ruote Così fai il tuo gioco Speriamo che vada bene E che la gente Se lo compri Io vorrei aver inventato Facebook Ma vabbè Siamo là Ci sta Però lì Non c'avevo proprio Odiandolo E avendolo sempre odiato Cogifra Mi sembra proprio Improponibile Devo dire Cogifra Che però Non mi ricordo Se prima O dopo Facebook Una volta C'avevo il commercialista Che mi chiese Delle idee Per uno Che Che non mi ricordo Che cazzo di collocamento C'aveva E in una di queste Era un Facebook In cui tu Non mi ricordo Se era già nato Facebook Probabilmente sì Però era proprio Che tu volevi scopare Mettevi sì Se l'altra persona Dall'altra parte Aveva messo sì C'era il match Che è poi Come hanno funzionato Le robe di appuntamento Perché dicevo In Facebook La gente ci sta Per scopare Però non c'è Un sistema Per cui L'altro è chiaro Che vogliono scopare L'uno con l'altro Un sistema nascosto In cui io lo scrivo E se lei lo fa Ci siamo Lo veniamo a sapere Se scopa E abbiamo risorto Il problema di Facebook Secondo E questa roba Più o meno È come funzionano I fregni Le otto persone Che l'hanno comprato Stanno festeggiando Dice Captain Questo parlava di Sapoon Insomma Uno schiuma party Gratuito Come certi Sabati sera Dice Figus Non so che gente Frecventi Contri doveva vincere Il Godi Secondo te Ricordo che Vince God of War Beh è bello Anche God of War Non mi lamento Meglio entrambi Se devo scegliere Scelgo Control però Control 2 Per distacco Il mio gioco Più atteso Control tantissima roba Ma cazzo Che ci mossino qualcosa Migliorassero anche Un pochino la mappa Tra l'altro Me lo aspetto Molto in continuità Atruce Dai Imola World 2 È andato male Giusto Anna Male Non credo Non bene Male È proprio Concordo Oggi Il nuovo Nuovo punto Per dire male Penso sia Concordo Occhio alla mano Vito Sì scusa Vito se vuoi la recensione Onessa di Age of Mythology Vai sul canale di Viking Che lo sta streamando Se sei live Ci andiamo dopo Fai meno l'italiano Ah ma Anna Purna È stata fondata Dalla figlia Di Larry Ellison Scopro oro Basi solide Chi è Larry Ellison Ha inventato Tinder Praticamente Eh Cioè avevo l'idea Alla base di Tinder Esattamente È sicuramente Prima che uscisse Tinder Questo sono certo Ed era un modo Per risolvere Facebook Secondo me Cos'è il concord Signori Detto questo Io direi Che abbiamo chiuso Ci possiamo salutare È stato molto bello Mi raccomando Settimana prossima Si riparte Si riparte A palla di fuoco Andiamo a salutare Viking Che sapete Che è l'anti Vito Juvar A livello di giocatore Però lo sfonderemo A Tetris Non glielo dite Perché sennò Si allena Il piano sarà Allenarsi fortissimo A Tetris Senza far preparare lui E sfidarlo a casa Un giorno E provare a pareggiare Questo è il massimo piano Perché secondo me Senza saperlo giocare Secondo me Mi rompe comunque il culo Solo guardandolo Ciao ragazzi Stasera c'è Lazio-Milan So che questa è una community Di grandissimi tifosi del Milan E quindi non vi augurerò di perdere Perché tanto vincete sicuramente Ciao 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 Ciao